L'Università di Siena è orgogliosa di contribuire e di partecipare all'organizzazione degli eventi assieme al Comune di Siena, al Maesci e alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena che si intitolano insieme per gli SDGs e che animeranno un po' questa tre giorni senese dedicata agli argomenti dell'Agenda 2030. L'Università di Siena ha una storia di contributo alla promozione degli SDGs che parte dalla partecipazione al network internazionale SDSN e nel contesto delle iniziative saranno molti gli studenti dell'Università che parteciperanno agli eventi organizzati durante questi giorni. Insieme per gli SDGs si concluderà poi in Piazza del Campo il giorno 18 con il Graduation Day dell'Università di Siena che torna in Piazza del Campo dopo tre anni di forzata assenza e che vedrà oltre 1.500 studenti ricevere il proprio sospirato titolo di laurea in una cornice straordinaria nella cornice della Piazza del Campo che li ha coculati durante tutto il loro periodo universitario e che li saluta al compimento e al raggiungimento del loro titolo.